L'Epicasa Brindisi arriva alla super sfida con la Virtus Bologna, anticipo del sabato della settima di ritorno, col morale altissimo dopo il largo successo esterno con l'altra formazione felsinea, la fortitudo dell'ex Adrian Banks, e soprattutto dopo il primo successo nella Top 16 della Champions League con i turchi del Pinar. Le due circostanze rimarcano l'importanza storica del momento perché Brindisi continua ad occupare la seconda piazza in classifica in Serie A e può dire la sua nella corsa per la qualificazione in Champions, nonostante il passo falso di partenza con gli israeliani dell'Apoel Olon. I bianco-azzurri condividono il secondo posto proprio con la Virtus Bologna, quota 28, ma con la titolarità della posizione grazie alla vittoria colta nel confronto diretto dell'andata. Con queste premesse e soprattutto con la consapevolezza delle proprie potenzialità, l'Epicasa, pur priva di un talento come Harrison e ancora del capitano Alessandro Zanelli, è mentalmente pronta per una sfida ad altissima tensione emotiva perché si gioca la chance dell'isolamento in classifica e del 2-0 nel confronto diretto. Una condizione a dir poco incoraggiante in chiave play-off, anche in considerazione del fatto che nel turno successivo i bianco-azzurri ospiteranno la Dinamo Sassari, già battuta nel Palasera di Migni. Ma quella che affronteranno nel Palapentasuli è una Virtus con un belinelli in più e con un equilibrio ritrovato, specie dopo il successo interno con la Reier Venezia. E con l'ex campione NBA in campo ci saranno giocatori come Teodosic e Markovic, una squadra capace di rivaleggiare con l'Olimpia Milano e di primeggiare in Europa, come ha fatto finora. La partita sarà diretta da Bobo Begnis, Lorenzo Baldini e Valerio Grigioni. Una curiosità per chiudere. La Virtus ha deciso di raggiungere Brindisi con un volo charter nella mattinata del sabato e di ripartire subito dopo la gara. La Virtus ha deciso di raggiungere Brindisi con un volo charter nella mattinata del sabato e di ripartire subito dopo la gara. La Virtus ha deciso di raggiungere Brindisi con un volo charter nella mattinata del sabato e di ripartire subito.